La... Da! Tut-tu... Tut-ti-ta! È... La GLU! Wuhuu! Unica! Unico! Unifa! Unifo! Unime! Unify! No, Itzy! Ti stai sbagliando! Sono in ritardo! Devo aprire il chiosco! No! La maratona dei Pegasi è già iniziata! Melodie criniere! Non può aprire senza di me! No! Oggi è la CLU! CLU! La giornata dell'uccicchio degli unicorni! Un giorno speciale per tutti gli unicorni! E anche per i loro amici! Mi manca Bridalwood! I poniterrestri e i Pegasi sono stupendi! Ma sarebbe bello se mi facessi un amico unicorno! Oh! Farmi un amico unicorno! È bellissimo! Ed è vivo! Sì! Ho deciso che ti chiamerò... Signor Spazzatura! Ciao, Itzy! Sono io! Il tuo amico unicorno preferito! Woohoo! Ciao, signor Spazzatura! Vuoi festeggiare la CLU insieme a me? Che i festeggiamenti abbiano inizio! Unica! 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 Unifa! Unica! Trotformers! Lanciare! Autobot, trasformatevi! Due frullati alla fragola, per favore! Subito, signore! È tutto a posto, Itzy? Chi è questo? Questo è il signor Spazzatura, il mio nuovo amico unicorno! Salve, signor Spazzatura! Grazie, Sunny, e buon CLU! Te l'ho detto, ti stai sbagliando! Oggi non è... Oh, e se lei avesse ragione? Non vi pare che Itzy si comporti in modo strano? Sì, prima l'ho vista con una specie di unicorno fatto di Spazzatura. Sì, tutto vero! Jazz ha fatto a entrambi la Pony Coor! Vedete? Non risulta ciò che dice Itzy! Sì, Sunny, lo sappiamo! Anche lei è fuori di testa. Quanti zoccoli vedi? No, forse finalmente ho capito! Oggi è davvero il CLU! La giornata dell'uccichio degli unicorni! Che disastro! L'avevo scordato! È un giorno nel quale gli unicorni festeggiano l'amicizia! Scusa, signor Spazzatura! Non dovevo mangiare tutta quella pasta! Ci siamo divertiti molto, signoresse! Ma non sembra la CLU senza i miei ami! Buona giornata dell'uccichio degli unicorni! Unica! Unico! Unità! Unico! Univò! Univèi! Oh! Mi siete ricordati allora? Ah! Avete solo fatto finta di esservene scordati! Beh, l'abbiamo... scordato! Stiamo ancora cercando di imparare i giorni speciali di tutti i Pony e ammetto che forse dovremmo impegnarci un po' di più. Ci spia! Credevano pazza! Te lo prometto! Ma stavamo pensando che forse c'è ancora tempo per festeggiare la nostra CLU tutti insieme! Stai dicendo sul serio? La mia giornata è stata super divertente e ora rifarò tutto con voi! Wow! La migliore CLU di sempre! Alla prossima A